Devi presentare il modello 730? Se sì allora fermati un secondo perché questo video può essere molto interessante per te. Io sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista e sono uno dei titolari dello studio Allievi. Sicuramente avrai qualche domanda da farmi, provo già a rispondere ad alcune di queste. Conviene presentare il modello 730? Sicuramente sì perché nello scorso anno avrai sostenuto delle spese che potrai inserire nella tua dichiarazione dei redditi e che ti permetteranno di avere un rimborso fiscale nella prossima busta paga di luglio o agosto. Perché dovrei affidarmi a dei commercialisti per elaborare il mio modello 730? Perché siamo dei professionisti in ambito fiscale. Considera che ogni giorno calcoliamo le imposte per contribuenti come te ma anche per ditte individuali e società. Inoltre devi sapere che siamo iscritti a un albo professionale che certifica le nostre competenze e in più nello studio Allievi c'è un team dedicato esclusivamente all'elaborazione dei modelli 730 con una grande specializzazione alle spalle. Quale documentazione vi devo portare per predisporre il modello 730? Sicuramente la certificazione di tutti i redditi che hai conseguito nello scorso anno e anche tutte le spese che hai sostenuto che possono essere inserite nella tua dichiarazione dei redditi. Se non sai bene quali sono queste spese che si possono inserire non ti preoccupare perché ti daremo noi una lista con tutte queste spese. Gestite voi la procedura del 730 precompilato? Certamente il nostro è un servizio completo. Tu non devi fare altro che raccogliere tutta la documentazione in tuo possesso e fissare un appuntamento per la predisposizione del tuo modello 730. Ma come posso prenotare un appuntamento presso lo studio Allievi per la predisposizione del mio modello 730? Niente di più semplice. O ci chiami al numero che trovi sopra questo video oppure se clicchi sul pulsante sotto a questo video ci sarà un modulo di contatto che dovrai compilare e saremo noi a chiamare per fissare un appuntamento con te. Ti aspetto quindi presso i nostri uffici di Novara in corso della Vittoria 12.